Due perle dell'attaccante Tommaso Bonanno consentono al Gela di battere in casa la nocelina di mister Massimo Morgia una vittoria di cuore e rabbia oltre che di tecnica per la squadra di Pippo Romano che davanti al proprio pubblico sconfigge con autorità la blasonata formazione campana. Un match vibrante soprattutto nella seconda frazione di gioco quando sul 2-1 il forcing dei rossoneri ha fatto soffrire qualche coronaria di troppo ai tanti sostenitori di fede gelese. Riavolgendo il nastro della partita la cronaca ha visto soprattutto al Gela tenere il palino del gioco per gran parte del primo tempo. Mister Romano opta per un 4-4-2 contro il 3-5-2 messo in campo da Morgia. Gelesi vogliosi di portare a casa la vittoria ed il pubblico apprezza la rabbia dei giocatori in maglia. Bianco-Azzurra. La prima azione pericolosa arriva al quindicesimo con la combinazione Bonanno-Dorato con quest'ultimo che impegna il portiere Gomis che si salva in angolo. Due minuti dopo è festa in casa Gela. Bonanno si guadagna un calcio di punizione dei 25 metri e per la quinta volta della stagione su calcio piazzato la mette dentro tracciando una parabola imprendibile. 1-0 è Gela che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Al 27esimo ci prova Cosenza per il Gela ma la sua conclusione di testa trova l'estremo difensore rosso-nero attento. La nocerina si vede al 31esimo con il tiro di russo carambolato in angolo. Poi ancora Bonanno che con un tiro a giro impegna Gomis. Ospiti che potrebbero pareggiare i conti sul finire del primo tempo ma la punizione calciata da Cavallaro sbatte sulla barriera. Nella ripresa la nocerina offre il solito divertente fraseggio ma il Gela a raddoppiare. A mettere dentro la palla del 2-0 ci pensa ancora una volta Bonanno che parte sul filo del fuorigioco e dalla limite dell'aria di rigore lascia partire un sinistro poderoso che fulmina l'incolpevole portiere. Sul doppio vantaggio Gelaese la nocerina si accende e prova con insistenza la via del gol. Ad accorciare le distanze ci pensa russo con la complicità del difensore Campanaro che devia la palla in rete. 2-1 è gara riaperta ma il tempo passa e Biondi non si lascia sorprendere dal colpo di testa ravvicinato del neoentrato di Emea. Ospiti che non mollano la presa e che tentano il tutto per tutto per trovare la rete del pari. Attimi eterni che vedono al 45esimo ancora un pallone in mezzo questa volta di lusso che per poco non trova sempre di Emea a ribadire in rete. Dopo sei interminabili minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro di Marco Di Ciampino e il Gela fa festa davanti al proprio pubblico per un successo sicuramente veritato e voluto da tutto l'ambiente.